Non aggiornata al Festival di Cannes, oggi tre film in concorso, passa l'americano Red Rocket di Schoenbacher, la storia di mia moglie, della regista ungherese Il Dico Eiedi e l'atteso nuovo film di Jacques Odiard, Les Olympiades. Sergio Rubini fa parte di questo film della regista ungherese che è una coproduzione e ha raccontato di fare un personaggio negativo, losco, ambiguo, l'anima nera del film che è interpretato da Lea Seydoux e ha detto mi propongono spessissimo questi ruoli e io sento di essere tutt'altro nella vita e quindi la bellezza del cinema per un attore è proprio quella di essere visto come qualcosa molto lontano anche da sé. Rubini ha raccontato la sua prima volta a Cannes con Federico Fellini. Si ricorda addirittura di un Martin Scorsese in ginocchio per Fellini sotto alla Montée de Marche. La cosa divertente che ha raccontato Rubini rispetto a questa sua prima esperienza è che gli avevano assegnato una stanza al Calton, che è uno degli alberghi di lusso più belli della Croisette, ed era una stanza talmente lussuosa, talmente perfetta, che lui per paura di rovinare questa armonia, questo lusso ha dormito vestito quella sera. Lui ha ribadito che mantenere questo stupore di fronte all'eccesso, alla ricchezza per chi non è abituato a questo è una cosa molto importante. A proposito di ricchezza vi voglio raccontare anche questo aspetto di Cannes. Cannes è una specie di Las Vegas, sia durante il festival e sia fuori del festival, ma durante il festival assume una dimensione di gioco perenne, di luci, di festa, di eccessi. Quest'anno un po' meno perché non ci sono gli americani per i motivi dell'emergenza sanitaria e anche altri spendaccioni che frequentano gli alberghi di lusso, che sono il Majestic, il Calton è chiuso per restauro, il famoso storico Calton, e il Marriott che è stato completamente rinnovato ed è diventato uno degli alberghi più importanti della Croisette e poi il Martinez che è da sempre un luogo storico, anche mitico se vogliamo, del festival. Si può incontrare Spike Lee a colazione alle 7 di mattina dopo che ha fatto le sue corse sulla Croisette e a proposito di lusso, lì le stanze costano da 1000 euro a 25.000 euro per la suite con vista mare e il pranzo sulla spiaggia, la proposta del midi, quindi del mezzogiorno, ha una tariffa fissa, un menù di 225 euro. Ecco, a proposito di stupore, Cannes è anche questo.